Ciao a tutti e bentornati a Pillole di storia con Bop Italia. Come lo facciamo una volta ogni due settimane, oggi andiamo ad analizzare un film. Inutile che ve lo nascondo, l'avete visto nella locandina, il film di oggi sarà Master and Commander, film uscito nel 2003. Un film sicuramente mainstream, so già chi sta dicendo ma è un film mainstream, eccetera eccetera, però è un film che dal punto di vista storico è molto 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 accurato. Quindi seguitemi perché ci sarà veramente molto di interessante da dire. Come al solito questo video sarà diviso in due parti. Nella prima ci sarà una sezione spoiler free in cui vi parlerò in generale del film, perché andare a vederlo, perché non andare a vederlo, in questo caso perché andarlo a vedere, ovviamente perché recuperarlo perché si parla di un film del 2003 e poi ci sarà una seconda sezione, nella più corposa, in cui invece andremo ad analizzare alcune scene, le più importanti dal punto di vista storico, analizzeremo se ci sono degli errori o delle cose precise, però quella sarà piena di spoiler, tra cui uno spoiler sul finale, quindi assolutamente se non avete visto il film non guardatelo perché il finale merita veramente tanto. Bene, Master and Commander per chi non lo sa è un film del 2003 con Russell Crowe, che era appena uscito dal gladiatore e che parla di uno scontro navale, una battaglia navale, o meglio, è un film concentrato sulla vita di una nave a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo, una nave inglese della marina inglese impegnata nella caccia di una nave francese durante il periodo delle guerre napoleoniche, ovviamente. È un film ispirato ad una serie di libri, una serie molto grande di libri, delle serie del Capitano Aubrey, che se siete degli appassionati di storia dell'epoca vi consiglio di recuperare perché è assolutamente bellissima, piena di storie molto belle che si dipanano lungo un arco di tempo molto lungo. Il film in particolare prende una di queste storie, la stravolge, perché nella storia originale la lotta non era tra una nave inglese, la nave del Capitano Aubrey inglese e una nave francese, ma era tra una nave inglese e una nave americana, però sento già le major americane dire no, gli americani non possono essere cattivi e quindi ecco che la nave diventa francese, ma questo è assolutamente secondario. Ma non solo prende questa storia il film, ma prende anche altre storie, pezzi di storia tratte soprattutto dai primi libri e che mette insieme per creare un film che vi assicuro è assolutamente, assolutamente godibilissimo. Quando lo vedi per la prima volta, credo due anni dopo l'uscita, nel 2005, mi aspettavo un'americanata, un film, l'altro associavo Russell Claw al gladiatore, di cui credo che non parleremo mai perché ci sono un sacco di analisi storiche sul gladiatore, ma che tutti sapete essere un film bello, per carità, ma io non impazzisco per quel film, ma devo dire che è un bel film, ma che dal punto di vista storico è un disastro assoluto. Ebbene, Master and Commander è esattamente l'opposto. È un film comunque bello, che però è molto molto accurato dal punto di vista storico. Andremo poi ad analizzare le singole scene, ma per voi che dovete ancora vederlo vi assicuro che è un film che, seppur in un ambiente molto limitato, perché si svolge principalmente su una nave o comunque in mare, è molto 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 accurato. Sono accurati i costumi, è accurato il modo in cui la nave viene gestita. La nave stessa è molto accurata, quindi non vi immaginate le navi di Pirati dei Caraibi. È molto accurato il modo in cui si rapportano le persone ed è molto accurato tutta la vita di bordo che si vede dipanare durante l'intero film. Un film quindi che vi consiglio di andare a vedere. Mi ricordo che peraltro nello stesso periodo uscirono due film, uno storicamente accurato, che era questo, e uno non storicamente accurato, che era, che è anche semplicemente molto divertente, che era Pirati dei Caraibi e la malizione della prima luna, si pensava che entrambi potessero dare vita ad una saga, uno dei due ebbe poco successo. Provate a immaginare quale, e quale invece ebbe successo e divenne una delle saghe più ricche fino ad oggi del cinema. Pazienza. Ora, la prossima parte sarà assolutamente piena di spoiler. Andiamo ad analizzare le singole scene, quindi vi avverto, se non avete ancora visto il film, ve lo straconsiglio, fermatevi qua, perché la prossima parte sarà piena di spoiler. Per carità, il film è godibilissimo comunque, però secondo me è bello da goderselo, senza aver sentito i miei sproloqui dei prossimi minuti. Avvisati, i prossimi minuti saranno ricchi di spoiler. Bene, partiamo. Come detto nella prima parte, il film è storicamente molto, molto, molto accurato. Ho letto un po' di critiche in giro, un po' di critiche su internet. In realtà, la maggior parte delle critiche si concentrano su alcuni particolari, che da alcuni vengono definiti errati, ma che in realtà andranno poi a ricercare assolutamente non lo sono. Ovviamente non vi parlerò di piccoli errori. Ho trovato, segnalato il fatto che i marinai dispiegherebbero le vele in maniera non propriamente corretta, però stiamo parlando di minuzie che appaiono a bordo schermo. molti si concentrano sul modo di parlare e di interloquire tra i marinai e il comandante, che sembrano sempre essere lì pronti per andare a un ricevimento a Buckingham Palace. Beh, sembra incredibile, ma se probabilmente fra di loro i marinai parlavano in tutt'altro modo, in realtà la disciplina a bordo delle navi inglesi era ferrea, era a livelli che raramente sono stati visti al mondo, non solo, ma anche la disciplina vocale, cioè il modo di interloquire tra marinai o tra i marinai e il comandante era ferreamente regolamentato. Sono riuscito a dire la parola in maniera corretta e prevedeva tutta una serie di modi di esprimersi corretti, precisi e assolutamente quasi più da baronetto, da te delle cinque piuttosto che da nave da guerra. Era in realtà anche un modo, ed è uno dei motivi per cui è stato mantenuto ancora fino adesso, di allentare la pressione. Immaginatevi quando ci si preparava un abbordaggio in cui ci si preparava a combattere, ebbene questo obbligo di mantenere un aspetto rispettoso, un modo rispettoso di interloquire con i propri compagni era anche un modo per tranquillizzare la testa, farla concentrare su quello che si stava facendo e farle abbandonare la paura. D'altronde attaccare una nave con tutti gli altri nemici dall'altra parte pronti ad attenderci sicuramente doveva essere terribile. Ci sono molti altri particolari che sono stati, che vennero all'epoca colpiti, ma che sono assolutamente storicamente accurati. Se avete letto i libri della Obri, del capitano Obri, sapete benissimo che la presenza di bambini a bordo o di giovani ragazzini è storicamente corretta. La preparazione per diventare degli ufficiali, o per diventare i marinai nel caso dei mozzi, iniziava molto molto presto, anche perché le cose da imparare erano tantissime e in realtà si diventava ufficiali anche molto giovani, anche a 14, 15, 16 anni si iniziava il cursus on home, che magari un giorno avrebbe potuto portare a diventare l'ammiraglio Nelson. Quindi le scene del film in cui si vedono i bambini sono assolutamente accurate. Non vi sto a parlare dell'accuratezza dei costumi, perché questo è ovvio anche solo guardandoli, le cuciture, gli strappi, l'accuratezza di come è fatta la nave. Non sono un esperto di carpenteria navale, ma vi posso dire che ho cercato su internet che la nave è assolutamente identica ad una nave dell'epoca e quindi è assolutamente accurata in tutte le sue forme. Dal punto di vista medico vi posso dire che invece la famosa scena, abbastanza all'inizio, in cui il dottor Maturin va a incidere nel cranio per drenare un'emorragia cerebrale, poi chiude il cranio con una moneta, è in effetti un pochettino tirata. Tirata non vuol dire che sia errata, interventi del genere si facevano, certo il rischio di morte era altissimo, perché non c'erano gli strumenti, non c'era l'anestesia, non c'erano gli antibiotici, guardate la scena, pensate a quanto quella zona potesse essere antisettica, zero, con tutte le persone dall'alto che ci respirano sul cranio aperto. Non c'erano gli antibiotici, però questo non vuol dire che morissero tutti, era molto probabile morire, ma non tutti ovviamente lo facevano, altrimenti non l'avrebbero fatto. Quindi la scena, per quanto molto filmica, è una scena comunque assolutamente plausibile. Come molto filmica è la scena del primo incontro tra la nave francese e la nave inglese, con la nave inglese in netta inferiorità che riesce a scappare. Anche in questo caso stiamo parlando di uno stiracchiamento della trama, in cui è ovvio che se uno riguarda la scena, immaginandosi uno scontro del genere, probabilmente la nave francese 9 volte su 10 sarebbe riuscita ad abbordare o ad affondare quella inglese, e in questo caso non capita, ma d'altronde se la storia fosse finita lì non ci sarebbe stato più niente da raccontare. Per quanto riguarda invece tutti gli altri scontri, il tutto è assolutamente storicamente accurato. Come storicamente accurato? Il fatto che la nave si fermasse molto tempo per riparazioni, o che i marinai a bordo fossero in grado di riparare completamente una nave. Questa è una cosa che non passa molto quando si racconta l'istoria, ma le navi all'epoca portavano con sé tutto per le riparazioni, o erano ovviamente obbligati a scendere per prendere acqua, cibo, talvolta grandi alberi per riparare il sartiamo più grande, però portavano a bordo vele, corde, tutto per riparare la nave. La nave doveva essere tirata in secca talvolta, talvolta si riparava invece a bordo quando ancora si era in mare, bastava fermarsi in un'isola e si potevano riparare. Una cosa che tutti raccontano dell'epoca e si mostra, questo è andata benissimo, nei libri, perché avviene più volte e viene descritta in maniera molto più specifica. Infine, trovo che sia molto 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 bello il modo in cui viene rappresentata la navigazione. In un'epoca in cui non vi erano collegamenti, se non quelli diretti, salire su una nave a bordo, in cui si creava veramente un piccolo mondo di persone costrette a navigare insieme per mesi, 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 chiusi su quella nave solo loro, era secondo me un microcosmo in cui tutto quello che ci circondava poteva sembrare terribile o l'orizzonte marino essere sconfinato e imprendibile. Questo secondo me viene reso in maniera molto 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 precisa nel film. Passiamo alle cose negative. Devo essere sincero, a parte quello delle vele che vi ho già detto prima, ma ho dovuto andare a cercare degli errori perché era veramente molto molto difficile. Ho dovuto addirittura cercare su internet perché io personalmente, nella mia ignoranza, non ne avevo visti, ma anche su internet ho trovato veramente pochissimo. E in effetti l'unico errore che può essere nominato è quello in cui, alla fine, dopo che la nave francese è stata catturata, viene inviata a Valparaiso. Valparaiso che dal 1830 iniziò a diventare un importante scalo fino a diventare la città attuale, ma che all'inizio dell'800, anzi 1805, quando il film ambientato, era in realtà un piccolissimo villaggio in cui non avrebbe avuto alcun senso inviare la nave a riparare, insomma. Quindi è un errore veramente minuscolo. Ho potuto dire una qualunque altra città e tutto sarebbe stato preciso. Se poi vogliamo essere perfetti, c'è un altro errore che secondo me non è un errore, ed è il fatto che durante gli scontri, ad un certo punto, un francese gridi vive la Repubblica. Ebbene, vive la Repubblica è sbagliato perché all'epoca c'era già l'impero, ma è anche possibile che le persone a bordo della nave francese, separate da molto tempo dalla madrepatria, non lo sapessero, quindi tutto questo è plausibile. Passatemelo come secondo errore per dovere d'inventario, ma come vedete sono errori veramente, veramente minimi. Cosa resta? Resta un bellissimo film, di cui un peccato non abbiano mai fatto un seguito. Si parla, tra l'altro in questi giorni, ho letto che forse Russell Crowe sta dicendo che si potrebbe fare un Master and Commander 2. Se seguiranno la stessa storia del primo, io ne sarò assolutamente felice. La curiosità finale è una cosa che non è un errore, ma è una cosa che non si sarebbe potuta ripetere. Quando arrivano sulle isole alle Galapagos, scendono e Maturin, Dottor Maturin, va alla ricerca di animali, una delle prime cose che vedono sono delle iguane. Ebbene, le iguane che vedono sono delle comunissime iguane, mentre in realtà su quelle isole all'epoca vi erano delle iguane, se non sbaglio grigie, che attualmente sono una specie in via d'estinzione. Sono pochissime, ovviamente non potevano essere usate per le riprese, ma passatemi, è veramente una minuzia incredibile. Rivedetevi il film, io l'ho rivisto da poco e devo dire che è sempre bellissimo, rende sempre molto, forse grazie al modo in cui sono costruite le scene molto fisiche, con questo legno che esplode, la carne maciullata, molto reali, si sente molto meno rispetto ad altri film, tra cui peraltro anche il gladiatore e le sue scene in CGI, si sente molto meno lo scorrere del tempo. Io vi saluto, se volete continuare a curiosare, e cercare peraltro altre recensioni di film, recensioni storiche di film, fatelo qui a fianco, nella pilola di storia che stanno apparendo alla mia sinistra. Io vi saluto, ci vediamo domani con un'altra pilola di storia. Ricordatevi di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di meraviglie incredibili. A domani, ciao ciao!